Da quando avevano vinto le elezioni amministrative dello scorso anno, ma soprattutto da quando avevano deciso di dividere le loro strade, mai il Movimento 5 Stelle Gelese e la Giunta Messinese, che guida Gela dal giugno 2015, si erano confrontati pubblicamente per spiegare alla città i veri motivi della dolorosa separazione politica. Ci è riuscito Agorà, che ieri sera ha ospitato nel suo salotto televisivo di Canale 10, tre amministratori locali ed altrettanti consiglieri comunali pentastellati. Un parterre che ha permesso di chiarire alcune delle dinamiche che hanno portato alla clamorosa rottura tra il sindaco Domenico Messinese ed il Movimento, assieme al quale aveva vinto le elezioni, scalzando, dopo ben 22 anni di dominio incontrastato, il PD ed il centrosinistra dal potere cittadino, dalla mancanza di dialogo a qualcosa che, evidentemente, si era cominciato ad incrinare ancora prima che l'esito del ballottaggio desse a Domenico Messinese lo scettro di primo cittadino della città del Golfo. Con il sindaco messinese in studio, il suo vice, Simone Siciliano, e l'assessore al bilancio, Fabrizio Morello. Per la parte opposta, invece, presenti ad Agora il capogruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Giudice, il presidente della Commissione Ambiente e Sanità, Virginia Farruggia, ed il consigliere comunale, Simone Morgana. Toccati nel corso del seguitissimo rotocalco settimanale della nostra emittente, tutti i passaggi che hanno portato all'espulsione di Domenico Messinese dal Movimento 5 Stelle e le varie tappe che hanno allontanato del tutto il primo cittadino e la sua giunta da quella base che l'aveva sostenuto in campagna elettorale. Le diametralmente opposte visioni su come governare la città ed i tormenti che hanno lacerato i rapporti politici ed anche rapporti personali. Tanti i momenti in cui il dibattito televisivo ha visto alzare i toni e tanti gli spunti su cui i telespettatori hanno potuto trarre il proprio pensiero su questa vicenda tutta interna al Movimento 5 Stelle, ma che inevitabilmente coinvolge tutti i cittadini, visto che di mezzo c'è la compagine che appena un anno fa è stata chiamata a governare Gela. Comunque la si pensi, almeno questo è il nostro punto di vista, una opportunità persa ed una occasione mancata che rischia di essere pagata, ancora una volta, dalla città intera in un momento così delicato della storia moderna di Gela. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo, come sempre in prima serata per parlare ancora di Gela e dei temi che riguardano direttamente i gelesi.